Abbiamo controllato la partita e poi abbiamo pensato che fosse già finita, invece non a caso Torrenova si è qualificato ai play-off vincendo a Sant'Antimo, campionato difficile, una partita difficile ma non vinta da squadra e sicuramente non avrebbero mai accettato una partita del genere, soprattutto nella gara di play-off, noi stavamo per fare veramente una frittata. Poi abbiamo trovato dei canestri che eravamo totalmente fuori dalla partita e quindi poi rientrarci è veramente difficile, onestamente c'è poco altro da dire, abbiamo secondo me dominato nei primi 25 minuti e poi c'è stato un calo mentale, dispiace però sappiamo che dobbiamo vincere gara 2 perché andare 2-0 sarebbe importante, quindi adesso testa gara 2, sono felice perché la partita è stata vinta e quindi di 1-30 non è importante, la partita è stata vinta, interpretata nel modo giusto e adesso pensiamo a gara 2.